Piacenza non può certo dirsi città dalla grande tradizione in fatto di sport invernali ma a quanto pare esistono pure alle nostre latitudini le eccezioni. Tommaso Pagani, otto anni, è il protagonista dell'impresa, primo assoluto a Madonna di Campiglio nel corso di una delle tappe del circuito della Triveneto Cup. Quello che vedete in questa foto è proprio lui, Tommy, impegnato in uno dei suoi trick formidabili. Nonostante la giovanissima età, il talento della tavola di Podenzano nel corso delle due giornate di gare andati in scena il 15 e 16 marzo ha centrato un primo e un secondo posto. Gradino più alto del podio nella specialità dello slope, disciplina freestyle per eccellenza, divenuta pure sport olimpico nel corso degli ultimi giochi di Sochi. Il giorno successivo, seconda piazza nel Big Air, competizione che prevede la valutazione del salto unico. Grande soddisfazione per il piccolo atleta della Minoia Snowboard School, che si divide tra sport invernali e l'immancabile calcio. Per ora Piacenza confida nelle sue doti di provetto freestyler delle nevi.